un saluto per chi ci seguite su formobiles.info oggi vediamo come rimuove la scocca posteriore e accedere alla batteria in asus zenphone 2 laser stessa procedura che avevamo visto sul zenphone 2 normale vedete che la scocca io l'ho già tenuta sollevata perché sennò il video viene male la scocca ha da questo lato qua dove io l'ho ancorata vedete che c'ha uno spazio dove potete inserire l'unghia voi basta che inseriate qui l'unghia e andate a sollevare la scocca posteriore che si apre all'interno troverete la batteria che in questo momento non vedete ma io ve la faccio vedere lo stesso che è disposta in questo modo qua per se dite che scatta per toglierla facilmente senza diventare matti vi basta per esempio la punta di una penna abbastanza dura basta che facciate un pochino di spinta un pochino di spinta verso di là verso l'alto e abbiamo rimosso la batteria di asus zenphone 2 laser la batteria di asus zenphone 3 laser Grazie a tutti.